È un gioiello? No. È una fotocamera? No. È uno specchietto? No. È Veniti, il mio cellulare dual SIM NGM con preziosi Swarovski Dirkonia che può gestire due SIM contemporaneamente perché in ognuna di noi esistono due donne diverse. Veniti. Vani to za me, te mio. Veniti. DNGM. New Generation Mobile.